Segretario, voi avete parlato in questi giorni dell'esplosione di casi Covid nella scuola abruzzese, situazione che voi ritenete sicuramente difficile. Sì, è una situazione difficile. Abbiamo detto che lo screening andava avviato per tempo, prima del rientro. Sebbene le intenzioni sono state positive, perché c'è stato questo ritardo però solo di due giorni, i risultati si sono visti, appena il 60% ha partecipato, molti disincentivati dall'organizzazione, ore e ore di attesa, soprattutto per i bambini più piccoli, che necessariamente andavano accompagnati, quindi file chilometriche, ore di attesa, un tempo troppo stretto. Se si fosse fatto lo screening in maniera diversa, con più tempo, con una migliore organizzazione, probabilmente il livello di sicurezza assicurato sarebbe stato maggiore e avrebbe convinto tanti al rientro a scuola, perché lunedì 10 a scuola i ragazzi non c'erano. Voi sostenete che bisognava riaprire le scuole forse una settimana dopo, due? Sì, il tempo strettamente necessario per fare una reale campagna di screening, per trovare i positivi asintomatici, perché poi il problema grosso è stato questo, abbiamo un picco enorme di contagio, se in presenza, in passato abbiamo parlato di ondate, adesso siamo davanti a uno tsunami di contagio. Ci sono anche diversi insegnanti, personale scolastico, a casa a causa Covid? Sì, fortunatamente la copertura delle vaccinazioni è stata relativamente buona, però appunto il picco di contagio ha coinvolto anche il personale, quindi tanti sono a casa con la malattia. Quindi in questa situazione, la seconda parte dell'anno scolastico, come si prospetta, desiati? Ovviamente si prospetta con carattere forte di discontinuità, perché man mano la popolazione scolastica e i lavoratori saranno interessati dal contagio, le norme di precauzione nella scuola vengono rispettate, ma esiste sempre il problema del tempo prima dell'entrata, del tempo successivo all'uscita dei trasporti scolastici. In quelle condizioni non c'è alcuna prevenzione.